Grazie a tutti. Una pagina su Repubblica, Dieselgate che investe la Fiat, gli Stati Uniti contro FCA fuori legge più di 100.000 auto, parla Marchionne, noi in regola non siamo così stupidi e non vogliamo replicare il caso Volkswagen, gli Stati Uniti accusano Fiat Chrysler di aver falsato i dati sulle emissioni di 104.000 motori diesel, Marchionne dice però non siamo come la Volkswagen. Altre notizie che troviamo su Repubblica, l'inchiesta, la trincea desolata che difende l'Italia dai cyberattacchi, Gianluca Di Feo scrive, avremmo potuto stupirvi con effetti speciali ma la realtà della rete di sicurezza informatica nazionale è molto povera, ricca di idee e di buona volontà, misera di risorse e di personale. Così se scendiamo nelle trincee che dovrebbero difendere il paese dalle orde di predatori di dati, che si tratti di guastatori russi o dei fratelli occhio nero, le troviamo desolatamente sguarnite. L'economia, l'Italia adesso serve un altro miliardo per il salvataggio, per Calenda è stata gestita male. L'analisi poi della politica statunitense, stretti nella morsa Obama-Trump, scrive Federico Rampini, corrispondente dagli Stati Uniti per Repubblica, anche Fiat Chrysler finisce in mezzo alla guerra a distanza tra Barack Obama e Donald Trump negli ultimi giorni della transizione. Solo pochi giorni fa il Presidente eletto aveva applaudito l'annuncio di Sergio Marchionne sui nuovi investimenti americani del suo gruppo. A centropagina invece l'interno del Pantheon a Roma, perché è stato proposto il ticket per l'ingresso dal Ministro Franceschini, il Pantheon a pagamento fa litigare esperti e turisti. Si divide gli esperti la proposta del Ministro Franceschini di introdurre il ticket per il Pantheon. Secondo Montanari l'accesso deve restare gratuito, perché il monumento è scuola di memoria e cittadinanza. Per Augas è giusto pagare un biglietto, si aiuta a salvare i nostri tesori artistici. Ricordiamo, per il Ministro Franceschini, gli introiti derivanti da questo ticket andrebbero direttamente alla struttura. Voucher a febbraio, il piano basta abusi nelle aziende, saranno introdotte le quote. Il governo accedera sulla modifica dei voucher. Sul tavolo ci sono varie ipotesi che si concretizzeranno in un provvedimento a febbraio. L'obiettivo è ridurre la platea nell'utilizzo dei buoni. E poi ancora troviamo il pezzo di Ezio Mauro, i demoni di Pietro Grado dell'inverno del giudizio. Seconda puntata del viaggio di Ezio Mauro nella rivoluzione russa. Il pezzo storico. Poi in taglio basso la cronaca italiana, quei figli senza senso di colpa. Una fredda frivolezza dietro ai ragazzi assassini di Codigoro. Quello che più colpisce dell'atroce delitto di Codigoro è l'assenza di senso di colpa nei due giovanissimi assassini del figlio. Innanzitutto ancora più del suo sanguinario complice. La motivazione del suo gesto appare sconcertante nella sua semplicità. Non sopportavo più le loro prediche. Volevo liberarmene. Il numero uno di Vivondi. Non siamo francesi invasori. Con Made as a Et un polo europeo. E poi Mr. Netflix. Vi racconto come costruirò la tv del futuro. Sarà online e globale. Continuiamo la nostra rassegna stampa con un'altra prima pagina. Andiamo quindi ad aprire il Corriere della Sera. Il titolo principale anche qui è riguardante il Dieselgate. Accuse dagli Stati Uniti ad FCA. Dati falsi sulle emissioni. Marchionne risponde nulla di illegale. Però intanto crolla il titolo. Per le autorità un software irregolare montato su 104 mila vetture. Si indaga ancora. L'accusa è di aver usato quindi software illegali per mascherare l'effettivo livello di emissioni inquinanti nelle auto diesel. 104 mila veicoli venduti negli Stati Uniti dal 2014. Ora l'EPA mette sotto accusa FCA. Per Marchionne invece non c'è nulla di illegale. La sfida sull'auto. Il fulmine a ciel sereno. E nella casa FCA dopo i complimenti di The Donald. Le accuse dei vertici in scadenza. Padoan sui crack bancari. Punite i manager scorretti. In alcune banche ci sono state gestioni che possono aver violato norme deontologiche e penali. Il ministro Padoan auspica giustizia rapida sui manager. Non voglio tasse europee più alte. Mario Monti rassicura Berlino e spiega come avere fondi europei per le nuove emergenze senza aumentare le tasse. Troviamo poi il pezzo di Aldo Grasso. I mali della Rai e il dilemma di una riforma forse impossibile. Ancora una volta il partito Rai ha vinto o quasi. Il corpaccione ha respinto i corpi estranei come era già successo in passato. Carlo Verdelli si è dimesso dopo lo stop del CDA al piano di riforma del sistema news. Nella mitologia di Viale Mazzini il suo scalpo è appeso nell'ufficio di Monica Maggioni. Il presidente che ha osteggiato con tutte le forze la riforma proposta da un esterno. Ma questa in verità è solo una lettura superficiale tanto per fare un po' di colore. L'ombra di Putin sull'Europa scrive Angelo Panebianco una volta pronunciate le frasi di rito è il caso di domandarsi se l'Europa a fronte della Russia di Putin non sia alla vigilia di una congiuntura che ne ricorda altre. Per esempio quella in cui si trovò Atene nel IV secolo a.C. quando subì la politica espansionistica del re Macedone Filippo II. Se il paragone vi sembra spericolato considerate i fatti. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un'altra grande potenza ha interferito nella campagna presidenziale per favorire con i suoi cyber attack l'amico Donald Trump e danneggiare la nemica Hillary Clinton per giunta. Forse Trump dice il vero quando sostiene di non essere ricattabile da parte dei russi e forse no. Anche nell'ipotesi migliore i Stati Uniti, il lord protettore dell'Europa dalla fine della seconda guerra mondiale sono pronti, come Trump ripete, a stabilire una partnership permanente con la Russia. Non è difficile indovinare a spese di chi il possibile tramonto delle relazioni atlantiche come le abbiamo conosciute. Può lasciare l'Europa allo scoperto in una posizione di grande debolezza. Può spingerla a un accordo con i russi e alle condizioni di quest'ultimi. Più in generale hanno probabilmente ragione coloro che sostengono che la politica di Trump si rischia di terremotare la sicurezza e l'economia. A centro pagina nel Calal Grande le nuvele di Gabbiani a Venezia per il gelo. Il gelo viene inezia con la danza dei Gabbiani in attesa di catturare i cefali. Arrivano al tramonto, ricordano il film di Hitchcock, Gli uccelli, centinaia di Gabbiani. Volano radenti il bacino di San Marco a Venezia. Arrivano per cena, è l'ora alla quale i cefali, resi lenti dalle temperature di questi giorni, si riuniscono nelle acque a bassa salinità ed ecco a piombare sui loro i Gabbiani alla ricerca di un pasto facile. I ragazzi in carcere, i ragazzi che hanno ucciso i genitori, nessuno vorrà essere più nostro amico, nessuno ci vorrà più bene, nessuno vorrà essere nostro amico. Riccardo e Manuel hanno portato a termine l'omicidio e insieme sono entrati nel centro di prima accoglienza nel carcere minorile di Pratello a Bologna. Riccardo e Manuel, il figlio delle vittime e l'amico, esecutore del duplice omicidio, ieri i due ragazzi sono stati nuovamente sentiti dal procuratore dei minori che oggi chiederà la convalida dell'arresto. Si dicono pentiti, Riccardo è più distaccato, Manuel il maggiore dei due invece è disperato. Li volevo morti ma non potevo farlo io, erano pur sempre mamma e papà. Davvero agghiaccianti queste dichiarazioni. In taglio basso la lista degli sfiati via internet da Verdini alla Torre, da Fassina a Sacconi, chi veniva controllato dai fratelli Occhio Nero. E poi anche Alitalia, Poste Italiane, Trenitalia, Agenzia delle Entrate, oltre a una lunga serie di banche, tra cui Allianz, Intesa, Mediolanum, Citibank, si allunga la lista di personalità e società tenute sotto controllo, grazie alle intrusioni informatiche effettuate dai fratelli Giulio e Francesca Maria. Occhio Nero. L'imame di Firenze, denunciamo quelli dell'Isis, dell'album di famiglia dell'Islam, vanno messi anche i terroristi, così dice Izzedin El-Zir, l'imam di Firenze, presidente dell'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche, in un'intervista al Corriere. E ancora, dossier prima del voto, email di Hillary, indagine sull'FBI. L'emailgate aveva avvelenato la campagna elettorale per le presidenziali statunitensi, che ora al Dipartimento di Giustizia apre un'inchiesta per verificare l'operato dell'FBI, nel caso delle email di Hillary Clinton. È il momento di prenderci una piccola pausa, torniamo fra pochissimo con tutte le altre notizie. A fra poco.